musica news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio Giancarlo, ne scherzavamo però è la verità, tanti assist quelli che stai riuscendo a estrarre dal cilindro in questo periodo Caponia ringrazia per domenica soprattutto comunque partita un po' dal tuo piede l'azione che poi ha dato il via allo schema del primo gol e poi il secondo non hai toccato palla ma è stata veramente un'azione di quelle che possono venire tra giocatori che hanno un ottimo potenziale nei loro piedi Siamo una squadra con tante individualità importanti, abbiamo dimostrato di saper andare a retta in tanti modi niente speriamo di continuare così per questo finale di stagione è un periodo in cui avete un po' cambiato domenica avevate un po' la necessità di cambiare anche l'obbligo non c'era capitano malgrati non c'era segato quindi si è optato comunque per rivedere vedere anzi per la prima volta insieme Carboni e Merli sale in difesa abbiamo rivisto Dragon in mezzo al campo molta sostanza tanta qualità davanti non è stato un caso che abbiate creato io credo almeno sette palle goal nitide si si no ma non è stata la prima volta che comunque è stato necessario cambiare l'undice che comunque è andato più spesso in campo abbiamo dimostrato di poter sopperire a qualsiasi assenza qualsiasi siano comunque le componenti che scendono in campo abbiamo dimostrato di mantenere alto sempre il livello di gioco domenica è stata una partita di alto livello come le altre abbiamo creato tanto però non siamo riusciti a finalizzare come spesso ci è accaduto e allora andiamo ad analizzare il vostro prossimo programma vi condurrà il Chieri il diciassette trasferta ostica avete riattaccato subito la spina martedì veramente poco tempo per come dire pensare ad altro bisogna stare sul pezzo perché con tre vittorie probabilmente festeggiare potreste rischiare di festeggiare già il 7 aprile beh sì sappiamo che comunque abbiamo un ottimo divario dalle altre squadre ma questa settimana ci servirà per ricaricare un po' le pire continueremo ad allenarci con grande intensità per poter poi ricominciare a riprendere il cammino come l'abbiamo finito questa settimana per cercare appunto di poter chiudere i giochi prima possibile grazie Giancarlo buon lavoro grazie a tutti